Ho preso l'uccellino di Ciro Rocca di Neto 18 settembre 2011 in piazza con Giovanni Polo II in attesa di Cigione c'è Gio Donatello sul palco il signore di Reggio Calatria che sta facendo il Zuzu andiamo con il Gio e Gio, fai fare una bella figura se è più gioco per il fidanzato è fresco, va un po' più avanti fammi fare una bella figura e Gio, ci siamo? bravissima, un applauso state qui con me sul palco andiamo con Zuccherina una canzone che regaliamo alle tante belle cioccolatine di stasera che ce ne sono tantissime al palco ne vedo che ce ne sono tantissime il pubblico con le mani e poi insieme a me siamo qua pochi Zuzu piano piano possiamo andare a questa musica avanti diciamo ci siamo ci siamo con le mani con le mani la grande e Wong ci siamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti